Sono caduti dalla moto mentre percorrevano una curva e scivolati sulla carreggiata opposta. L'impatto con il camion che arrivava è stato inevitabile. La motocicletta ha sbattuto contro il muso del tir e i malcapitati ci sono finiti sotto, rimanendo incastrati. Nulla da fare per una 67enne triestina che è morta nell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in Slovenia a Planina, frazione di Postumia. La donna era in sella alla moto guidata dal marito di 69 anni. Il grave incidente è stato reso noto dalla polizia di Capodistria. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre marito e moglie da sotto il camion. È stato necessario sollevare il mezzo per riuscire a recuperare la coppia. Sul luogo dell'incidente anche l'ambulanza e l'elissoccorso. I medici hanno tentato di tutto per rianimare la donna triestina ma non c'è stato nulla da fare. La 67enne è morta sul colpo. Il marito invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Lubiana in gravi condizioni. Non sarebbe in pericolo di vita.